A Passonati Bianconeri si rinnova l'appuntamento con la rassegna stampa sportiva di Udinese Channel con uno sguardo ai principali quotidiani nazionali e un riferimento ai giornali locali. Ormai è eminente la sfida tra l'Udinese e la Sampdoria, ultima tappa di questo 2014, gara che si giocherà a Marassi per la squadra bianconera. Vi ricordo oggi la conferenza stampa di Andrea Stramaccioni alle 12.30, poi nel pomeriggio la rifinitura e la partenza per Genova, domani alle 15 si affronterà proprio la squadra allenata da Sinisa Mijelovic, terza forza del girone, in un gruppone che compone appunto il terzo gradino del podio. Andiamo con ordine, partiamo dalla Gazzetta dello Sport che analizza anche altre sfide e su tutte la sfida tra Roma e Milan con le cosiddette frecce da parte di entrambe le formazioni. Allora il titolo della Gazzetta dello Sport è Chi mette la freccia? Roma-Milan, la sfida più veloce con i due possibili protagonisti che sono Jack Bonaventura per quanto riguarda il Milan e Gervinio per quanto riguarda invece la formazione giallorossa. Si gioca alle 20.45 allo stadio olimpico, stasera sarà lotta a chi corre di più, Garcia sospesa, la squalifica andrà in panchina, può contare sugli sprinter Maicon, Gervinio Ilaic, Inzaghi, Suarmero, Honda e Bonaventura. Quindi comunque è anche una sfida nella sfida appunto tra giocatori molto veloci in grado di saltare l'uomo nell'uno contro uno. E a carte scoperte nella consueta rubrica della Gazzetta dello Sport a parlare a Jeremy Menesse, tra l'altro il grande ex del match. Menesse senza il calcio sarei un reggbista o forse in galera. Il rosso-nero si racconta tra Ibra Totti e quel no a Ferguson. Eccolo qui Menesse che giocherà a carte scoperte proprio nella rubrica della Gazzetta dello Sport. Gli altri riferimenti di spalla in prima pagina per quanto riguarda il quotidiano rosa, sempre c'è un battibecco tra Antonio Conte, Città della Nazionale e i tecnici dei vari club. Ora in cassa anche il no di Juventus e Roma, quindi delle prime due in classifica il tecnico ex della Juventus. No di Juve e Roma agli stage azzurri. Conte si arrabbia o tutti o nessuno. Tra i club che giocano in Coppa c'è l'ok di Inter e Torino. Quindi ancora un botta risposta e purtroppo non riesce a trovare un'unione di intenti il Città della Nazionale con i club. Lunedì la Supercoppa. Tevez senza sosta. Potrei dare anche di più ma siamo stanchi. Il Napoli deve decidere tra Higuain e Zapata per l'attacco. In primo piano c'è anche questa sfida che si giocherà a Doha tra la Juventus e il Napoli, squadre che già hanno anticipato la loro gara di campionato. Infatti andiamo a vedere nel dettaglio il programma. Già giocate Cagliari-Juventus 1-3, Napoli-Parma 2-0. Oggi si giocano Sassuolo-Cesena alle 18 e Roma-Milan alle 20.45. Domani alle 12.30 Verona-Chievo, alle 15 Atalanta-Palermo, Fiorentina-Empoli, Sampdoria-Udinese, Torino-Genoa chiuderà il quadro. Inter-Lazio 20.45 di fatto chiuderà anche il 2014 calcistico. Questa è la classifica. Vediamo anche le distanze perché abbiamo detto che c'è questo gruppone composto da Lazio, Sampdoria e Genoa. Sono a 26 momentaneamente, Napoli a terzo a quota 27 e c'è l'Udinese a quota 21 con il Palermo. Quindi 5 punti di distacco tra l'Udinese e la Sampdoria, prossimo rivale appunto dei bianconeri. In taglio basso si parla di mercato perché ricordiamo che c'è all'orizzonte anche la finestra che mai come quest'anno sarà determinante per alcune squadre. Alcune in smobilitazione, altre che provano a rinforzarsi. La finestra che da gennaio ci accompagnerà fino al termine del mese. Lennon, nuova musica per l'Inter. In Erasurri puntano all'esterno del Tottenham e agli Spurs piace Guarin. Quindi l'idea nuova è quella di Lennon. Mentre per quanto riguarda gli altri sport vi segnaliamo la notizia che riguarda la Ferrari. Anche qui sempre in continuo capovolgimento di fronte, in continuo cambiamento la situazione relativa alla Ferrari. Oltre alla Ferrari, Montezemolo per la riforma Formula 1 e per l'Olimpiade. Quindi riguarda un po' in generale tutti gli argomenti che riguardano i motori e non solo. Poi il rompipallone di Gene Gnocchi per chiudere la prima pagina della Gazzetta dello Sport. Diplomazia, l'Italia cerca un accordo con l'India. Se ci ridate i Marò ci prendiamo indietro anche i Materazzi. La dilonia è anche sul fatto che ci sono dei giocatori italiani che giocano proprio in India come appunto Materazzi. Andiamo all'interno della Gazzetta dello Sport per analizzare alcune notizie che abbiamo letto in prima pagina. A partire da questa sfida, anche se vogliamo, tra le frecce tra giocatori di grande corsa tra Roma e Milan. Chi corre più forte vince. Questa è l'idea della Gazzetta dello Sport. García e Inzaghi diversi ma con la ripartenza nel sangue. Sarà guerra di frecce. Maicon contro Armero. Gervinio attacca su due fasce. Occhio alla tipica Honda e alla carta Jack. E allora nel dettaglio vengono scansionati un po' tutti i giocatori di fascia, veloci, le frecce cosiddette di Roma e Milan. Eccoli qui. Gervinio, abbiamo visto gli Aic. Poi Armero, un giocatore che conosce molto bene anche l'Udinese. Poi Honda e naturalmente Jack Bonaventura. Uno degli elementi più in forma di questo Milan. Squalifica sospesa. Magarcía attacca. Qui regole strane. Nel tecnico stasera sarà in panchina. A Olebas annullato lo stop. Rudy, Nedved e Allegri non me ne frega nulla. Quindi García sarà in panchina e sarà in panchina anche probabilmente nella gara con l'Udinese. Che sarà la prossima gara della Roma. La prima del 2015. 12.30 il giorno dell'Epifania. A proposito di avversari dell'Udinese, Mialovic tolta una giornata di squalifica. Nessuno sconto per Perotti. Mialovic avversario dei bianconeri proprio con la sua Sampdoria. Ci sono le possibili formazioni di questa sfida che comunque vede al di là poi del discorso delle frecce e non frecce, dei giocatori di velocità e non velocità. Il confronto tra due squadre è la Roma che cerca conferme e cerca comunque di ristabilire quelle che sono le distanze con la Juventus che ha già vinto il suo torno in anticipo e il Milan che cerca di rilanciarsi. A tal proposito, ormai siamo arrivati all'ennesima visita di Silvio Berlusconi a Milano. Milano evidentemente Berlusconi non avendo più nulla a che fare o quantomeno avendo meno situazioni politiche può dedicarsi più al suo giocattolo che è il Milan e allora spesso si presenta a Milanello anche perché avendo un tecnico molto giovane serve evidentemente anche il supporto di una persona molto esperta, un cosiddetto padre tra virgolette come lui nei confronti di Filippo Inzaghi. Allora Berlusconi, il mio Milan è più forte della Roma, non utilizza mezze misure, il presidente del Milan non cambierei mai la nostra rosa con la loro, vi voglio padroni del gioco, il presidente rosso-nero. E qui c'è Berlusconi che ancora una volta tiene a rapporto un giocatore, lo tiene spesso a rapporto che è Stefan El-Sharawi che comunque è un potenziale, un prospetto per il calcio italiano e del Milan e quindi evidentemente ha anche la fiducia e la simpatia del presidente che prova a dargli dei consigli. La sponda giallorossa, Totti vede rosso-nero, vent'anni di gol, magie e corteggiamenti, Francesco ha sempre stato un pallino del Milan, stasera cerca l'undicesima rete al diavolo e sfida il suo grande amico Max S, quindi comunque è una sfida tra ex Max S, Meness e altri giocatori. A proposito di Meness, è un po' il protagonista anche nella rubrica Carte Scoperte della Gazzetta dello Sport, Meness che dice senza il calcio sarei un regbista o forse sarei addirittura in galera. Il genio del Milan che stasera sfida la sua Roma si racconta dagli amici finiti male alle botte prese per una palla ovale al no detto a Ferguson. Quindi questa interessante intervista di Jeremy Meness che vi invito a leggere integrale sulla Gazzetta dello Sport nella consueta rubrica Carte Scoperte dove i giocatori vanno anche al di là del discorso prettamente calcistico. Andiamo avanti, lasciamo quello che è il capitolo dedicato a Roma e Milan. Si parla di mercato, si parla di mercato con l'Inter che è la squadra che più di tutte deve rinforzarsi anche perché con il cambio tecnico chiaramente devono essere presi dei giocatori congeniali alla filosofia di Roberto Mancini. Immagin l'Inter con Lennon e al Tottenham piace Guarin, contatto con i londinesi per l'esterno. Il colombiano è gradito a Pocettino in orbita Spurs anche per Eira e con l'Udinese si è parlato di Erto e Widmer. Attenzione qui naturalmente noi riportiamo le parole della Gazzetta dello Sport. Secondo l'osservatorio del mercato evidentemente c'è un colloquio dell'Udinese con l'Inter per Erto e Widmer che comunque stanno giocando un grandissimo campionato e che evidentemente sono congeniali a quelle che sono le aspettative di Mancini che cerca un centrale difensivo in grado di giocare a 4 o a 3 e cerca soprattutto in esterno di centrocampo a destra e quindi è certo che Widmer rispondono a queste caratteristiche. Questo secondo la Gazzetta dello Sport. È logico che nel gioco del mercato si fanno 200 nomi, si avvicinano alle squadre e soprattutto l'Inter nella circostanza. Il nome nuovo che comunque circola è questo qui che vediamo, è proprio quello di Lennon. Ha parlato anche Andanovic, ex giocatore dell'Udinese, ex portiere e prova a mettere i paletti sul futuro. Adesso voglio un club vincente, le prossime gare sono decisive, dobbiamo parlarci di più. Palazzo più del gol, lo preoccupa la caviglia. Queste le parole per quanto riguarda il portiere Andanovic. Lazio stress test per la Champions con un close in più. Pioli a San Siro vuole riprendersi il terzo posto. Mercato, Gonzales via, Nastasic o Doria in arrivo. Andiamo avanti con le altre pagine della Gazzetta dello Sport perché dicevamo c'è anche questa problematica relativa alla nazionale. Con Antonio Conte sempre nell'occhio del ciclone, sempre comunque in primo piano. Conte riunisce Juventus e Roma, no allo stage. La Lega decide di non decidere praticamente. I club nelle coppie europee possono non concedere i giocatori al CT. Praticamente dei club impegnati in Europa. Inter e Torino favorevoli allo stage. Fiorentina possibilista assente il Napoli. Beretta sul calendario sceglieremo a gennaio situazione complessa. Il problema qual è? Il problema è che da qui fino alle gare di qualificazione passano 3-4 mesi. Conte dice in questi 3-4 mesi devo visionare assolutamente dei giocatori tenendoli con me, non andando soltanto a vedere le partite ma facendo gruppo. E allora propongo uno stage, uno o due stage nell'arco di questi mesi. Giustamente le squadre dicono Juventus e Roma siamo impegnate con l'Europa, abbiamo una partita ogni 4 giorni, non possiamo concedere anche il giocatore nazionale. Ed ecco perché non si trova evidentemente un punto di incontro tra Conte, il paradosso qual è? Che Conte fino a qualche mese fa era sulla trasponda, era praticamente dalla parte dei club, ora invece si trova a guidare la nazionale. E quindi è in grossa difficoltà. Se questo aggiungiamo che evidentemente non è un tecnico che va a simpatia, bisogna dirlo, è evidente da parte di tutti, il quadro è abbastanza completo. Ecco perché Beretta dice che la situazione è molto complessa. Lasciamo il discorso relativo alla nazionale e andiamo invece ad analizzare altre situazioni che ci arrivano dal campionato. Ma non solo, perché ricordiamo che Juventus e Napoli hanno già anticipato le loro gare per Cali Rizzonte. C'è la Supercoppa che si giocherà a Doha e allora a parlare è La Pache, Tevez, che carica la Juve ma avverte, sono stanco. Tevez in Supercoppa fece il primo gol italiano, occhio a Higuain, fa paura. E qui ci sono naturalmente anche le foto dell'arrivo a Doha in Qatar, che è la sede di questa sfida di Supercoppa italiana. Higuain, che effetto ti fa Zapata? Napoli spera. Rafa ha lanciato il colombiano per scuotere il Pipita, lunedì la risposta. C'è concorrenza nell'attacco del Napoli tra Higuain e tra Zapata che comunque quando viene messo in campo fa sempre un gol. Andiamo anche a analizzare invece quella che sarà all'orizzonte la sfida tra Udinese e Sampdoria. Si giocherà a Marassi, quindi in casa gioca la Sampdoria, con le possibili formazioni, ricordando che alcuni dubbi verranno scelti nella rifinitura di quest'oggi per l'Udinese soprattutto. Partiamo dalla Sampdoria, non c'è Romagnoli squalificato in difesa per la Sampdoria, giocherà con, secondo la Gazzetta, con il 4-3-3, con Romero in porta, Cacciatore, Gastaldello, Regini e Mesba in difesa, Rizzo, Palombo e Obiang a centrocampo e poi un tridente tra i più positivi in questo frangente di campionato, quello composto da Gabbiadini, Okaka e Eder. I problemi arrivano per l'Udinese perché a centrocampo non c'è Allan squalificato e sono da verificare, purtroppo non sono in perfette condizioni, né Piris e né Domizi. Praticamente scelte obbligate, possiamo dire per Stramaccioni che comunque cercherà di sciogliere gli ultimi nodi, gli ultimi dubbi proprio nella rifinitura. Carnezi si importa, in difesa 4 Pasquale, Danilo Erto e Widmer con Guilherme Pinzi e Bado a centrocampo, Bruno Fernandes e Conè dietro a Di Natale. Questo secondo la Gazzetta dello Sport in vista di questo match che si giocherà domani alle ore 15, proprio a Marassi tra la Sampdoria e l'Udinese. Lasciamo la Gazzetta dello Sport e andiamo a fare dei passaggi rapidi sulle altre prime pagine dei quotidiani sportivi nazionali, partendo da Tutto Sport con la prima pagina che è dedicata a caratteri cubitali a Tevez. Io, Tevez, valgo di più. La sfida di Doha scalda la pace. L'argentino, non sono soddisfatto di cosa sto facendo, voglio alzare questo trofeo. Mi trovo meglio con Llorente. Allegri, se il Milan vince a Roma non mi fa schifo. García assolto, non mi importa, il campionato non si vince con le polemiche. E quindi anche qui a distanza continua il botta e risposta tra la Juventus e la Roma. In taglio alto, García, proprio il tecnico che ha avuto la sospensione per quanto riguarda la sua squalifica. A te il Milan. Lo steward ritratta via la squalifica stasera guiderà la Roma. Allegri e Nedved, me ne frego. Quindi Allegri risponde a García. García risponde a Allegri. E naturalmente alimentano le prime pagine di tutti i giornali. Andiamo in taglio basso con il Torino, Toro oppure Greco, Glick. Vogliamo stupire per l'Europa. E poi c'è questo riferimento invece al calcio estero con Sterling, uno dei giocatori più interessanti nel panorama europeo. Oro-nero con il giocatore che è stato premiato Golden Boy da parte proprio di Tutto Sport. Sarò degno di Messi, batto anche Balotelli, queste le parole di Sterling. Lasciamo la prima pagina di Tutto Sport. Andiamo sulla prima pagina del Corriere dello Sport dove l'apertura con la fotonotizia è dedicata proprio alla furia di Antonio Conte. Il sì parziale della Lega allo stage, chi fa le coppe non può andare, scatena l'ira del CT. Un problema anche la fine del torneo 2016. Vuole il 15 maggio, forse sarà il 22. Quindi c'è un sì parziale ma è logico che se Roma, Juventus, Napoli, Inter, Milan, squadre del genere insomma non ti concedono giocatori diventa difficile poi assemblare un gruppo nazionale o quantomeno fare esperimenti anche in vista dell'europeo. E poi c'è questo caos che si sta creando perché possiamo definirlo diversamente, quello del Parma. Parma russo-cipriota, il gruppo è nel petrolio. L'avvocato Giordano è la Dastraso Loading, svolta tra annunci e misteri. Parma purtroppo al di là del discorso prettamente di classifica con anche la penalizzazione in corso e arriveranno anche in futuro altri punti di penalizzazione, rischia di chiudere il girone di andata il Parma sotto i 10 punti perché è così, è inevitabile. C'è questo problema legato al passaggio di proprietà. Inizialmente c'era un passaggio tra Ghirardi e un certo Doca che era un imprenditore albanese tutto messo nero su bianco anche sui comunicati invece poi evidentemente qualcosa non è andato per la maggiore e questo contratto non è stato più portato a termine quindi nulla più. Ora c'è questo passaggio invece a una cordata russo-cipriota con questo avvocato Giordano che momentaneamente sarà il nuovo presidente del Parma però restano molti dubbi e ieri davanti alla sede del Parma c'era uno striscione anche abbastanza eloquente dei tifosi che sinceramente non sopportano più la situazione con un grandissimo buffoni nei confronti di tutti ma ci sta perché comunque bisogna far chiarezza anche perché il Parma non naviga in buone acque anzi tutt'altro in campionato e se continua di questo passo rischia veramente di lasciare la Serie A con larghissimo anticipo. Altro caos anche a Catania vi riporto questa notizia sulla prima pagina del Corriere dello Sport perché lascia Beppe Sannino ex tecnico del Watford ha iniziato la stagione nel Watford società della famiglia Pozzo poi è tornato in Italia si può fare a livello europeo il trasferimento in Italia no, un tecnico che ha allenato una squadra non può allenare un'altra in Italia in Europa si, prima allenato in Watford può al Catania però a Catania non è arrivata la scossa allora torna Pellegrino Pellegrino che aveva concluso l'anno scorso la stagione a Catania Catania praticamente è già retrocesso preso da Pellegrino tecnico della primavera quest'anno è partito Pellegrino dopo due giornate è arrivato Sannino ora lascia Sannino, torna Pellegrino e la cosa curiosa è che è tutto questo alla vigilia praticamente della gara di campionato di quest'oggi per quanto riguarda il Catania e in taglio alto ultima notizia che andiamo a leggere sul Corriere dello Sport Roma e Garzia un trionfo squalifica sospesa oggi col Milan ci sarà anche Ole Bass andiamo ora all'interno delle pagine dei quotidiani locali per analizzare nel dettaglio quella che sarà la sfida tra la Sampdoria e l'Udinese gara che si giocherà domani a Marassi alle 15 con l'analisi che ci porta anche a un confronto tra i confronti abbiamo analizzato anche tramite la nostra emittente confronto ad esempio tra i due attacchi Eder Gabbiadini-Okaka da una parte sull'altro versante invece c'è Di Natale Bruno Fernandes-Terò piuttosto che Conè interessante il confronto mai senza precedenti praticamente tra Stramaccioni e Mialovic ma Mialovic conosce molto bene Stankovic che è il vice di Andrea Stramaccioni il messaggero Veneto ci analizza un confronto molto interessante di carattere mondiale possiamo dire tra Carnesis e Romero e sfida mondiale erano a Brasili 2014 di Natale Okaka sono dei bomber agli antipodi quindi da una parte c'è Romero portiere della Samp portiere dell'Argentina e sull'altro versante invece c'è Carnesis portiere della Grecia quindi entrambi al mondiale Belmonte-Tersino Widmer avanza in mediana Stramaccioni ha provato la difesa a quattro ma cambiando gli interpreti lo escluso sarebbe Pinzi quindi ci propone questa ulteriore variabile il messaggero Veneto quello che potrebbe essere la formazione si parla anche di mercato spunta il Liverpool nell'asta per Muriel secondo il messaggero Veneto il colombiano in Inghilterra piace anche al Southampton ma Giaretta ribadisce Luis vogliamo valorizzarlo noi Ammarassi solo in 50 a tifare per i bianconeri nella sfida contro la Samp mentre si potrebbe muovere anzi sicuramente si muoverà anche il mercato della Samp che ha già preso Correa un giocatore molto interessante probabilmente perde Gabbiadini la Samp e allora Ferrero chiama Ballotelli alla Samp troverebbe serenità Mialovic orientato a giocare col tridente andiamo nelle altre pagine del messaggero Veneto per parlare di disegnazioni arbitrali perché la Supercoppa va a Valeri Irrati per Sampudinese dopo i gravi errori di San Siro il fischietto romano è stato premiato con Juve, Napoli Friulani sempre sconfitti col direttore di gara toscano Torino 0-2 e Genoa 2-4 qui poi è logico che verrebbe da polemizzare perché chiaramente Valeri a Milano è stato disastroso sia da una parte sia dall'altra è stata una condotta di gara veramente pessima e allora giustamente cosa fa la federazione arbitri gli dà la gara di Supercoppa quindi poi le polemiche vengono da sé e poi magari vengono ulteriormente alimentate comunque chiudiamo questa questa parentesi e passiamo avanti andiamo sul gazzettino il gazzettino nelle pagine interne e le pagine interne che sono riferite appunto alla sfida tra Sampdoria e Udinese Domizio e Piris KO inguaiano Strama e allora Stramaccioni cerca di trovare possibili soluzioni alternative difesa 4 ma con Pasquale unico terzino di fascia staffetta di Natale Tero sempre all'interno del gazzettino del Neri qualcosa non va doppio ex Gigi del Neri portò la Sampdoria in Champions League qualche anno fa è stato in passato giocatore dell'Udinese qualcosa non va e poi chi fa gol è solo Totò queste le parole di Gigi del Neri e poi la Galassia dei Pozzo anche in Inghilterra la stampa inglese il Watford è solo di Gino rimarca viene rimarcato questo questa cosa questo fatto proprio in Inghilterra Samp Bianconeri scuola di Tridente a scuola di Tridente e visto che la Sampdoria dovrebbe giocare appunto con Okaka con Edera e con Gabbiadini i precedenti ci portano a un successo affermato da Suryak un Sampdoria Udinese 1-3 con le reti Suryak non segnò però comunque fu protagonista insieme a Pulici Mauro e Causio questo per quanto riguarda la sfida chiudiamo così il quadro relativo ai quotidiani e in particolar modo a quella che sarà la gara di domani vi ricordo 12.30 la conferenza di Andrea Stramaccione andremo in diretta dalle 12.15 fino alle 13 parlerà anche Orestis Carnesis il portiere bianconero quindi doppia conferenza con le impressioni alla vigilia e anche a consuntivo di questo 2014 verranno illustrate anche le modalità poi di ripresa della preparazione logico ci sarà un periodo di break per quanto riguarda l'udinese che tornerà poi poco prima di Capodanno in campo per la preparazione il 6 ricordiamo che si affronterà al giorno dell'Epifania la Roma quindi alle 12.30 conferenza di Stramaccioni alle 14 vi ricordo il TG domani invece oltre la rassegna stampa vi ricordo che andremo in diretta dalle 14 ampio prepartita da Marassi con collegamenti in diretta dal Luigi Ferraris poi finestre durante il match e poi tutti gli approfondimenti con i commenti a caldo al termine della gara tra Sampdoria e Udinese la rassegna stampa invece tornerà domani mattina regolarmente sempre alle 9.30 sempre su Udinese Channel grazie e buon proseguimento di giornata grazie